Abbiamo sentito nella scrittura quel raduno dei discepoli, le piedonne e Maria pregando dopo l'Ascensione di Gesù, la prima comunità cristiana che aspettava il donno di Gesù, la promessa di Gesù. Allora, Cristo è il Mediatore, Cristo è il ponte che attraversiamo per rivolgersi al Padre, è l'unico Redentore. Non ci sono corredentori con Cristo, è l'unico, è il Mediatore per eccellenza, è il Mediatore. Ogni preghiera che leviamo a Dio è per Cristo, con Cristo e in Cristo, e si realizza grazie alla sua intercezione. Lo Spirito Santo estende la mediazione di Cristo ad ogni tempo e ad ogni luogo, e non c'è altro nome nel quale possiamo essere salvati. Gesù Cristo, l'unico Mediatore fra Dio e gli uomini. Dall'unica mediazione di Cristo prendono senso e valore gli altri riferimenti che il cristiano trova per la sua preghiera e la sua devozione, primo tra tutti quello alla Vergine Maria, la Madre di Gesù. E la occupa nella vita e quindi, anche nella preghiera del cristiano, un posto privilegiato, perché è la Madre di Gesù. Le chiese di Oriente hanno spesso raffrigurata come l'Odigitria, colei che indica la via, cioè il figlio di Gesù Cristo. Mi viene in mente quel bel dipinto antico dell'Odigitria, la Cattedrale dei Bari, semplice. La Madonna che mostra Gesù nudo. Poi gli hanno messo le camicce per coprire quella nudità, ma la verità è che Gesù, nudo, lui stesso, uomo, nato da Maria, è il Mediatore. E lei segnala il Mediatore. Lei è l'Odigitria. Nell'iconografia cristiana, la sua presenza è ovunque e a volte anche in grande risalto, ma sempre in relazione al figlio e in funzione di lui. Le sue mani, i suoi occhi e il suo atteggiamento sono un catechismo vivente e sempre segnalano il cardine, sempre segnalano il centro, Gesù. Maria è totalmente rivolta a lui, a tal punto che possiamo dire che è più discepola di madre. Quella segnalazione alle nozze di Cana, lui, fate quello che lui vi dirà, sempre segnala Cristo e la prima discepola. Questo è il ruolo che Maria ha occupato per tutta la sua vita terrena e che conserva per sempre, essere l'umile ancella del Signore, niente di più. A un certo punto, nei Vangeli, ella sembra quasi scomparire, ma ritorna nei momenti cruciali, come a Cana, quando il figlio, grazie al suo intervento premuroso, fece il primo segno, e poi sul Golgotha, ai piedi della croce. Gesù ha stesso la maternità di Maria a tutta la Chiesa quando le ha affidato il discepolo amato, poco prima di morire in croce. Da quel momento noi siamo collocati tutti sotto il suo manto, come si vede in certi affreschi o quadri medievali. Anche la prima antifona latina, «Sutum presidium, confugimus, santa dei geni», la Madonna che copre, ma come madre, alla quale Gesù ci ha affidato tutti noi, ma come madre, non come idea, non come corredentrice, come madre. È vero che la pietà cristiana sempre le dà dei titoli belli, come un figlio alla mamma. Quante cose belle le dice un figlio alla mamma che vuole bene. Quante cose belle. Ma stiamo attenti. Le cose che la Chiesa, i santi, le dicono, le cose belle a Maria, nulla togliono della unicità redentrice di Cristo. E lui è l'unico redentore. Sono espressioni di amore come un figlio alla mamma. Alcune volte esagerate. Ma l'amore, noi sappiamo, sempre ci fa fare cose esagerate. ma di amore. E così abbiamo cominciato a pregarla con questa espressione a lei diretta e presente nei Vangeli. Piena di grazia, benedetta fra le donne. Nella preghiera dell'Ave Maria serve presto approdato anche il titolo Teotokos, Madre di Dio. Sancito dal Concilio di Efeso. E analogamente a come avviene nel Padre Nostro, dopo la lode, aggiungiamo la supplica, chiediamo alla Madre di pregare per noi peccatori, perché interceda con la sua tenerezza. Adesso è nell'ora della nostra morte. Adesso, nelle concrete situazioni della vita e nel momento finale, perché ci accompagni come Madre, come prima discepola nel passaggio alla vita eterna. Maria è sempre presente al capezzale dei Suoi figli che partono da questo mondo. Se qualcuno si ritrova solo e abbandonato, lei l'è madre, è lì vicino, come era accanto al suo figlio, quante tutti l'avevano abbandonato. Maria è stata ed è presente nei giorni di pandemia, vicino alla persona che purtroppo hanno concluso il loro cammino terreno in una condizione di isolamento, senza il conforto della vicinanza dei loro cari. Maria è sempre lì, accanto a noi, con la sua tenerezza materna. Le preghiere rivolti a lei non sono vane. Donna del sì, che ha accolto con prontezza l'invito dell'angelo, risponde pure alle nostre suppliche. Ascolta le nostre voci, anche quelle che rimangono chiuse nel cuore, che non hanno la forza di uscire, ma che Dio conosce meglio di noi stessi. Le ascolta come Madre. Come più di ogni buona Madre, Maria ci difende nei pericoli, ci preoccupa per noi, anche quando noi siamo pressi dalle nostre cose e perdiamo il senso del cammino, e mettiamo in pericolo non solo la nostra salute, ma la nostra salvezza. Maria è lì a pregare per noi, a pregare per chi non prega, a pregare con noi. Perché? Perché lei è la nostra madre. Grazie a tutti.